Continuamente l'esperienza è questa, che i poteri sociali esistenti si formano, impongono i loro ordinamenti e rispetto ad essi i simboli si trovano in posizione di dipendenza. Perché? Ecco, perché questa struttura della realtà è una struttura complessa, non riducibile a ragione completamente, studiabile per carità, attraverso i primi tipi ideali e soprattutto è una struttura percorsa, ecco, percorsa dal potere, fatta. La sostanza di cui è fatto il mondo è il potere, altro che soggetto. Il potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi, diventano gruppi e impongono forme di dominio. Tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitori, finché volete, ma ci sono. Ora, voi capite, immaginate, quale sia dietro questa scoperta molto lucida, quale sia l'autore vero, che viene nominato in modo così enfatico nelle ultime sue conferenze, l'autore mince, che la politica è fatta di rapporti di potere, possono essere diversissimi, configurarsi con le logiche più diverse, le modalità più diverse, le giustificazioni, le legittimazioni più diverse, ma insomma, l'inizio, ecco, all'inizio non c'è il logos, all'inizio c'è il logos, all'inizio c'è il marco. Questo non vuol dire che uno è necessariamente un imperialista, autoritario, fascistoide, non c'entra niente. c'entra l'idea che non riesce a distinguere il reale alla luce di una ragione che ne dia ragione, ma riesce a captare le diverse configurazioni di potere, che sono configurazioni soggettive, che però assumono, assumono nella storia, pesi, formazioni, costituzioni che non saranno oggettive, ma insomma, quando te le trovi davanti, sono dei muri, sono delle strutture. E' da qui, è da qui che viene fuori quell'espressione che in realtà noi non è mutua da Ege, dal quale non si sfruttia facilmente, con l'espressione che lo ha reso celebre, no? La gabbia d'acciaio. Quella gabbia non l'ha fatta il destino, non l'ha fatta la provvidenza, la gabbia d'umana. Il disincanto, insomma, la parola chiara, il vedere il mondo senza incantesimi, nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura, e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. non gli formati, certo, poi ne formati nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza di quelli dai quali abbiamo preso le nostre. Esempio, lo Stato moderno. Lo Stato moderno sembra molto consistente, no, in realtà quando va bene è molto efficace. Da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? è il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine dice Weber dentro i comuni i comuni medievali attraverso le soggettività che lui chiama politici e interventi gruppi politici portatori di un potere illegittimo. Cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme vera legittimità allora vigente ma attraverso sostanzialmente se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale. Cominciata molto in età molto risparente una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma e dai ecco quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che secondo Max Weber già secondo i protestanti e dalla Chiesa Pettolica e il suo modo di pensare all'esperienza umana. La riforma nella testa di Weber che questo poi era all'interno della grande religione dei dotti tedeschi che è il protestantesimo come via attraverso la quale il soggetto si libera. Nella testa di Max Weber la riforma aiuta alcuni soggetti a essere capaci di critica e erode aiuta ad erodere oggettività. l'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli che è un'azione ordinativa razionale ordinativa certamente per carità in questa azione si distinguono due linee parallele non voglio dire convergenti perché le parallele normalmente non convergono due linee parallele non intrinsecamente ripugnanti l'una rispetto all'altra questa ad esempio è una delle grosse differenze tra Max Weber e Regalamento sono la linea della razionalizzazione della politica e la linea della razionalizzazione dell'agire economica non sono la stessa cosa lo Stato non è il capitalismo lo Stato non è capitalismo quindi non è neanche la sola struttura che i borghesi si sono inventati cioè esiste una specificità della politica che è la specificità che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria la politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti di gruppi che lo organizzano in modi diversi ci sono le tipologie del potere la tipologia di potere tradizionale il potere razionale burocratico e tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a non è vero che si riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione cioè è impossibile trasformare in burocrazia in procedura ecco la terza forma di potere quella carismatica la presa diretta del potere sulla realtà il luogo la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica e questa essenza protestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere la tradizione e ciò avviene attraverso ripeto processi specifici gruppi politici che dall'interno dei comuni mettono il potere in circolazione e poi la riforma e implicitamente le guadalicini delle regioni e la costruzione di uno stato moderno che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive della tradizione tutto il sforzo di Hegel era di fare dello stato moderno una realtà come dice la parola statua cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo stato moderno mentre lo sforzo di Max Rebbe di dimostrare che lo stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così perché in Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche dimostrate logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione più disincanti più vedi che il mondo è abbandonato da loro e questo è il potere politico a fianco di esso interagente con esso c'è il potere con c'è la dimensione della vita economica anche qui come il potere politico è una questione di soggetti cioè di un capo del suo seguito della sua capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia di dare ad essa una configurazione ordinata il diritto è un positivista giuridico da questo punto di vista non crede nell'intrinseca razionalità della società crede nel fatto che qualcuno oppone così dall'altra parte c'è il processo di fiduzione capitalistica che ha un'origine individuale la famosa tesi dello spirito protestante un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma ma al massimo si può dire che i riformati credevano quando agivano economicamente di meritarsi anche la salvezza che è un discorso di un certo tipo però in altri luoghi Weber ha detto invece che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e la retica protestante e lo spirito del capitalismo perché non si capirebbe l'esistenza del capitalismo se non ci fosse il motore della riforma che è un caso di in cui la cultura agisce sulla società sull'economia perché il capitalismo ci vuole un soggetto molto antivo molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi perché poi tirando le somme la riforma è questa ti insegno che non è più bisogno dell'oggetto fuori di te di Dio per trovare una legittimazione nella tua esistenza la legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso o come diceva Marx bella forza che il protestantesimo non ha preghi mette un preghi all'interno della coscienza di ciascuno le due logiche quella politica che produce lo Stato che è sempre un prodotto di soggetti interessati in questo caso soggetti interessati a sancitare il potere da una parte e dall'altra la logica del capitalismo che è il prodotto di soggetti interessati all'utile e questa è la parte la parte finale dell'esperienza intellettuale e anche umana di Heber Heber vede che i due le due logiche sono diverse ma non sono contraddittorie reciprocamente sono due lati del razionalismo occidentale vede che non convergono perché le paralleli non convergono però tendono a sovrapporsi tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche cioè che perdono non ogni valore perché è ridicolo non ce l'hanno ma ogni orientamento al valore cioè vanno avanti da solo in forma automatica l'automatismo e questo questo lui lo vede a casa sua in Germania come tutto riesce a sostenere la tesi che la Germania per carità è eroica è la migliore di tutti possiede una scena è capace di una scienza che nessun altro al mondo riesce a produrre più o meno verde era l'epoca in cui i premi nobili che andavano tedeschi è fatta di eroi che sono combattenti meravigliosi però però non sanno stare al mondo cioè non non sanno uscire dalla tecnicità per cui si affidano affidano dappertutto il proprio desiderio di mettere le mani negli ingranaggi della storia non si tira indietro la propria volontà di mettere le mani in questo modo tradotto di diventare come di terra come gli Stati Uniti se lo fa questa volontà sulla quale non c'è nulla da discutere va bene così questo lo affidano alla perfezione della tecnica questo per adoperare il titolo di un libro del fratello di Unione di Epstein Friede la perfezione beh la tecnica è perfetta certo è il mondo che è costitutivamente imperfetto e se sei un politico che vuole vincere a un certo punto devi essere capace di decisione cioè di fare qualche cosa che non è razionale che tu fai perché la fai cioè la ragione politica convergente con la ragione economica convergente forse tutte quante con la ragione tecnica con gli automatismi della burocrazia della produzione questa è qualche cosa di superficiale la potenza della superficie ma sotto sotto ribolle la immaterialità la infondabilità della storia vedete è è un pensiero politico per grandi poteri è un pensiero politico in cui la politica è ancora ha ancora a che fare con il destino allora qui Weber che è una persona seria continuamente dice che bisogna avere sapere che si ha che fare con da una parte e dall'altra bisogna sapere che la politica è non può passare se non attraverso le potenze della tecnica per cui i socialisti via perché i socialisti via perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i bordesi non hanno alcuna immaginazione alcuna idea non sanno quello che fanno credono ad essere iperlativi e invece sono dentro le stesse logiche e questo è una posizione reazionaria da sempre la troviamo la troviamo come l'intimitivo del pensiero reazionario di lì a un paio d'anni sono cose che dice Cashman borghese e socialisti sono la stessa cosa però non come lo dicevano i pensatori della destra che contrapponevano a questa simbiosi no borghese e socialisti lo spirito nazionale o che so io ai mercanti contrapponevano gli eroi qui la tesi di vedere la politica è una cosa seria deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione che sono stato capitalismo produzione industriale tecnica burocrazia tutto quello che dall'altra bisogna sapere che queste realtà queste procedure queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo cioè il successo il perfetto tecnocrate lo sappia è uno che perderà infatti la Germania che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio la Germania perderà la guerra perché non sa fare la politica la politica non è questa cosa questo è lo strumento della politica e al tempo stesso non ci si deve montare la testa con la faccenda dell'eroismo perché non è così che si vince a questo mondo questo mondo le opzioni sono autocontradditorie tecnica vissuta con disincanto agire fondato sulla convinzione vissuto con disincanto il termine famoso con cui si chiude la sua antinopera non importa continuare un grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti questo tocco Grazie a tutti.